Non perché è un uomo, ma perché è una donna. E la donna si sa che su queste cose, diciamo, ha un po' strozzetta. Cioè, non la persona che vado a presentare, perché se no si apre... Ecco, però il gusto tecnico della donna, cioè, capisci? Stiamo parlando di Emanuela Sartori Impiegata. Le chiedo, eccola qui, ma non solo. Io prima ti ho visto spicherare, sei bravissima, e infatti vado anche a dire a tutti quanti che sei una commentatrice sportiva di altissimo livello. Ti faccio i miei complimenti prima, giustamente, quando vedo che i lavori si assomigliano, io cerco sempre di imparare qualcosina. E anche oggi ho imparato qualcosa, insomma. Ho fatto una furia in merda, però è una battuta, insomma, mi scappa via. Voi che venite dal mondo dello shopping, e che a tutte le donne gli piacciono giustamente le scarpe, la borsa, loro sono già impanicate perché adesso non devono parlare, e però giustamente lascio a te questa sorta di imbarazzo per le nostre cinque componenti. Sei un grande, ma è un classico che gli uomini lasciano alle donne la patata bollente, ma noi non ci preoccupiamo. Guarda, che gli uomini lasciano alle donne la patata, potrei aprire... Vabbè, scusate però, mi è venuta, scusatemi. Vado a sfoderare e a capire chi è la vincitrice. Scusa, e io? No, per curiosità. Tu non vinci. No, no, non l'era sottointeso. E su questo siamo d'accordo. No, siamo d'accordo, ehi! Molto bene ragazzi, siamo arrivati in situazione podio. Tu hai mai vinto una fascia. Ti pare? Ti pare? No, era così per curiosità. Vedi, infatti ti pare? No, hai visto, mi hai dato anche la risposta. Buonasera. Vice sindaco, buonasera, tra l'altro l'ho visto presente in giuria, quindi lei si prende delle grandi responsabilità, e mi piace puntare il dito contro il vice sindaco, non mi è mai capitato in vita mia. No, vada, posso farlo? Lo faccio giustamente. C'è un'altra performance, non lo so dire in inglese, c'è un'altra esibizione musicale, ci ringrazio, vi ringrazio, il mio inglese sono uno di voi altri, mi parlo in dialetto molto bene se vuoi. Ok. E' dell'applauso di Coriglione. Quanto mi sentite? Anche l'anno scorso, uguale. Performance, tac, l'audio che sparisce. Vedete che faccio una foto, è un po' così, ci piace. Questa è piatta, l'audio non tanto. Questa è piatta, l'audio non tanto. Questa è piatta, l'audio non tanto.